Ben trovati da Tg della mobilità, in centro dalle 14.30 corteo del movimento non una di meno da Rione Squilino a piazza Bocca della Verità, chiusure al traffico nel pomeriggio tra via Merulana e via De Cerchi e deviate 19 linee di bus. Un secondo corteo sfilerà dalle 15 alle 20 con partenza e arrivo da Ponte Settimia, Spizzichino percorrendo via Ostiense e Porta San Paolo, anche in questo caso previste deviazioni per le linee di bus di zona.